Angelo Sbrocca e il sindaco di Termoli ha battuto al ballottaggio il candidato del centrodestra Michele Marone ora al lavoro per rilanciare la città ha detto lo sconfitto chiama il vincitore per congratularsi il nuovo volto del consiglio comunale 15 consiglieri della maggioranza con il PD che fa la parte del leone 9 gli scranni per l'opposizione dove siederanno anche i candidati sindaco che non ce l'hanno fatta posta in sciopero un mese di disagio i sindacati della CGL e Will hanno comunicato che da oggi ci sarà lo stop delle prestazioni straordinarie del personale del settore recapito con disagi per l'utenza fino al 9 luglio Carabinieri in festa all'arma a 200 anni celebrazioni a Campobasso e Isernia anche per l'anniversario della nascita del corpo la benemerita è la più amata dai cittadini italiani Campobasso sul mercato Sonda e Senior un uomo per reparto e l'obiettivo del Campobasso per allestire una squadra competitiva a termoli domani primo incontro per l'avvio della stagione biliardo conclusa la gara nazionale Buon pomeriggio benvenuti al nostro telegiornale come avete sentito nei titoli dunque in apertura c'è il risultato del ballottaggio a termoli il nuovo sindaco della città adriatica è Angelo Sbrocca del centro-sinistra che ha superato Michele Marone candidato del centro-destra Telemolise ha seguito in diretta lo spoglio tutta la notte fino al risultato acquisito e allora vediamo i numeri di questa tornata elettorale ascoltiamo i protagonisti intervistati a caldo collegandoci con Fabrizio Occhionero che vedo già pronto nella redazione di Termoli e allora Fabrizio a te la linea Sì Tonino buongiorno da Termoli una città che si è svegliata con un nuovo sindaco un sindaco di centro-sinistra si tratta come accennavitù di Angelo Sbrocca che ha raccolto 6.461 voti pari al 51,77% ha battuto il candidato del centro-destra Michele Marone che ha raccolto 6.020 voti pari al 48,23% tra i due avversari al turno di ballottaggio ricordiamo Termoli è andato al voto con un anno di anticipo dopo la caduta anticipata dell'amministrazione di Brino tra i due avversari ci sono 441 voti di scarto un altro dato molto importante riguarda anche l'affluenza c'è stato pensato è un vero e proprio crollo sono andati a votare per il secondo turno 13.102 elettori un dato percentuale che è inferiore al 50% circa il 46,70% degli aventi diritto l'altra volta nel ballottaggio tra Antonio Di Brino e Filippo Monaco la percentuale si attestò sul 64% e rispetto al primo turno sono andati a votare 7.000 elettori in meno allora iniziamo subito con i commenti a caldo le dichiarazioni del sindaco, neosindaco di Termoli Angelo Sbrocca raccolte da Enzo Luongo può partire il servizio Se l'aspettava una vittoria in questi termini? C'è stato un testa a testa all'inizio? Ma io non mi aspettavo niente è venuta, è venuta bene anche con un testa a testa però abbiamo vinto noi ha vinto la coalizione di centrosinistra e adesso governeremo per cinque anni questa città Che cosa vi ha premiato secondo lei? Perché hanno scelto voi gli elettori? Secondo me ha premiato la discontinuità e anche la pacatezza perché non abbiamo fatto una campagna gridando e quindi i cittadini hanno premiato questo aspetto C'è molto da fare per Termoli? Sicuramente sì, c'è molto da fare e lo faremo Premiata anche la coalizione di centrosinistra o è una cosa locale questa del voto di Termoli? No, no, no Premiata la coalizione di centrosinistra è premiata tutti i partiti della coalizione il Partito Democratico in primis che è un partito in grande ascesa il Partito dell'Italia dei Valori Popolari per l'Italia e poi le liste civiche che hanno formato quella che è la nostra unione e che ci ha consentito di vincere Senta, c'è qualcuno in particolare che vuole ringraziare che ha contribuito in modo... Tutti indistintamente tutti quanti i cittadini che ci hanno votato tutti i politici che ci sono stati vicini lo staff elettorale che ci ha dato una grande mano e tutti i candidati che hanno messo la propria faccia per la mia candidatura e soprattutto per il bene di questa città Al candidato del centrodestra cosa si sente di dire stasera? Gli faccio i complimenti per il risultato e spero che farà una buona opposizione Bene, Fabrizio Ecco, il sindaco Sbrocca ha parlato di una buona opposizione per quanto riguarda Michele Marone Michele Marone che ha anche telefonato subito dopo il risultato definitivo proprio ad Angelo Sbrocca Allora, ascoltiamo Michele Marone mentre i festeggiamenti per quanto riguarda Sbrocca sono continuati prima in corso nazionale e poi proprio davanti al comune dove non è mancata una foto di gruppo Allora, ascoltiamo il candidato centrodestra sconfitto Michele Marone dalla sua sede elettorale Grazie a tutti a tutti gli amici a tutti i cittadini di Termoli che hanno espresso questo consenso importante perché poi il divario se non vado errato adesso non conosco l'ultimo dato però mi sembra che Circa 500 voti Eh, appunto sono circa 500 voti e in considerazione del fatto che sostanzialmente io sono espressione di una lista civica attorno alla quale diciamo che si sono unite le forze del centrodestra contro una corazzata del centrosinistra formata dal PD ma soprattutto dal governo regionale del centrosinistra che chiaramente insomma ha sostenuto con ogni forza e in ogni dove il candidato Angelo Sbrocca quindi ritengo che sia un risultato importante significativo e sotto certi profili anche vincente quantomeno per le forze moderate che a Termoli esistono ed esistono anche senza coloro che hanno un nome e cognome Remo di Giandomenico che hanno ritenuto di appoggiare la sinistra o meglio il centrosinistra che oggi ha vinto le elezioni comunali a Termoli quindi è importante che la città sappia quello che è successo Per lei che opposizione sarà? Ma ovviamente una opposizione sempre di natura costruttiva perché come ho sempre detto in ogni mia dichiarazione pubblica in ogni mio intervento l'azione amministrativa del comune di Termoli dovrà essere caratterizzata dall'efficacia e dall'efficienza e all'efficacia e l'efficienza e imparzialità dell'azione amministrativa sicuramente ci sarà il contributo del sottoscritto anche se sta all'opposizione ecco Marone parlava di opposizione ma c'è anche la maggioranza quindi con l'aiuto della grafica Tonino conosciamo anche il nuovo consiglio comunale di Termoli composto da 24 consiglieri allora nella nuova maggioranza ci sono 5 consiglieri per il partito democratico si tratta di Manuela Vigilante Aspetta Fabrizio aspettiamo la grafica Oscar Scutti Sebastiano Di Campli e Salvatore Di Francia adesso stiamo vedendo Fabrizio per l'Italia ci sono Vincenzo Ferrazzano Francesco Di Giove e Maria Grazia Cocomazzi tre consiglieri anche per la lista civica vota per te Filomena Florio Mario Potena e Andrea Casolino abbiamo ancora tre consiglieri scusate per l'Unione per Termoli Timoteo Fabrizio Maria Chimisso Silvio Orlando e un consigliere in maggioranza per Italia dei Valori si tratta di Antonio Giuditta in minoranza all'opposizione vanno gli altri quattro candidati sindaci alla carica eletti consigliere si tratta quindi di Michele Marone di Paolo Marinucci di Remo di Giandomenico e Nicola Di Michele gli altri consiglieri nuovi consiglieri di opposizione sono Antonio Di Brino per il nuovo centrodestra Udc Francesco Roberti per Forza Italia Francesco Rinaldi Alleanza per Termoli Daniele Paradisi Libera Termoli e Annibale Cerniello per i Popolari per Termoli Tonino se non ci sono domande da studio restituisco la linea Fabrizio grazie per il lavoro che hai svolto avete visto dunque il consiglio comunale di Termoli il nuovo consiglio comunale lasciamo dunque l'apertura dedicata proprio alle elezioni nella città adriatica e passiamo ad altre notizie l'ARPA ha concluso i controlli a Cerce Maggiore in località Capo Iaccio dove sono stati riscontrati valori di radioattività superiori di dieci volte a quelli consentiti dalla legge nella zona ci sono i pozzi petroliferi ormai dismessi della Montedison dalle verifiche è emersa la presenza di contaminazioni da benzene e di clorometano i dati saranno portati all'attenzione del Ministero competente affinché faccia piena luce sulle cause dell'inquinamento per avviare le operazioni di bonifica dell'intera area da oggi fino al 9 luglio CGL e Will hanno comunicato lo sciopero delle prestazioni straordinarie del personale del settore recapito in Molise alle poste sentiamo le motivazioni in questo servizio Mancanza di personale uffici postali che chiudono il settore in difficoltà e questo ha ricadute sui servizi e per gli utenti è la situazione descritta dai sindacati di CGL e Will che hanno illustrato i motivi dello sciopero delle prestazioni straordinarie da parte del personale del settore recapito in Molise da oggi fino al 9 luglio le criticità sono su tutto il territorio regionale in particolare nel Basso Molise dove oramai le persone ricevono la posta a sinchiozzo per carenze di personale siamo stati costretti ad arrivare a questo dopo una lunga trattativa con l'azienda che non ha voluto sentire ragioni e non vuole attivarsi per risolvere il problema quindi noi attraverso questa azione vogliamo fare emergere proprio la carenza di personale perché ad oggi va detto che i lavoratori di poste per abnegazione e senso di responsabilità nei confronti della clientela hanno svolto ore ed ore eccedenti all'orario d'obbligo per garantire il servizio uno sciopero che deriva dunque hanno spiegato i sindacati dalle criticità che vengono dalle riorganizzazioni dei settori e le conseguenti ricadute occupazionali in poste italiane anche alla luce dell'imminente privatizzazione societaria abbiamo una forte criticità anche in mercato privato in mercato privato tanto per essere ancora più chiare ai clienti sarebbero i servizi finanziari cioè la sportelleria tanto è vero che l'azienda il più delle volte non riesce ad aprire alcuni uffici secondo noi la criticità è di circa 40-50 unità volevo precisare alle figure istituzionali politiche di questa regione che in questa regione ci sono circa 100 ragazzi part time cioè che lavorano a 15 giorni per un importo di 750 euro al mese perché non trasformare molti di questi contratti da part time a full time sarebbe già una prima risposta i sindacati vogliono risposte altrimenti la protesta continuerà dicono sicuramente saranno anche disagi per i cittadini che sfortunatamente diciamo si trovano a dover pagare le conseguenze di una disorganizzazione generale per quanto riguarda mercato privati noi abbiamo intenzione di dichiarare una giornata di sciopero generale quindi la chiusura totale degli uffici a differenza dei servizi postali che è dalle prestazioni aggiuntive straordinarie quindi non è possibile ad oltranza per quanto riguarda i servizi postali non è detto che lo sciopero di un mese venga poi prorogato per un altro mese magari arriveremo fino a settembre dopo le polemiche sollevate dagli studenti sul ventilato aumento delle tasse universitarie dall'unimo le è arrivata la replica le tasse dell'università del Molise sono e restano tra le più basse d'Italia hanno fatto sapere dall'Ateneo e il nuovo regolamento non tocca in alcun modo le fasce deboli le famiglie in difficoltà economica per le quali sono previste riduzioni o esenzioni è stato celebrato anche a Campobasso nella caserma Frate il bicentenario della nascita del corpo dei carabinieri cerimonia solenne durante la quale sono stati anche consegnati dei riconoscimenti a militari che si sono distinti in operazioni di servizio sul campo Alza bandiera Nei secoli fedeli è il motto dei carabinieri da 200 anni dal 1814 sono rimasti fedeli alla patria e sono costantemente al servizio della gente per garantire sicurezza e tutela contro la criminalità anche a Campobasso le celebrazioni solenni del bicentenario della nascita dell'arma nella caserma Frate i carabinieri schierati in alta uniforme passati in rassegna dal comandante regionale Giovanni Pietro Barbano insieme ad Antonio Renzetti a capo della scuola allievi poi la deposizione della corona dall'oro ai caduti dell'arma sulle note del silenzio quindi la preghiera del carabiniere e la lettura del messaggio del presidente della Repubblica napolitano il quale ha identificato la benemerita con la storia d'Italia sempre presente nei momenti centrali della sua vicenda unitaria nel difendere i valori della patria con dedizione al bene comune per il comandante generale dell'arma Gallitelli come evidenziato nel suo messaggio l'orgoglio dei carabinieri e la loro fedeltà incrollabili dell'onore la patria la sicurezza dei cittadini che determinano il rapporto di fiducia con i cittadini stessi il comandante regionale Barbano ha voluto ringraziare i suoi militari per quello che fanno e per come lo fanno il dovere di comandante mi impone di rivolgermi soprattutto a voi carabinieri del Molise con pagina coesa fatta di uomini e donne consci dell'importanza del proprio dovere durante la cerimonia sono stati consegnati riconoscimenti e incomi a diversi militari che si sono distinti per operazioni sul campo senza paura della loro incolumità e pensando solo a fronteggiare la criminalità a difendere la cittadinanza un'attività costante in tutti i campi nel contrasto a rapine furti spaccio di droga e altri fenomeni ancora e voglio evidenziare come la nostra presenza sul territorio molisano si sia caratterizzata nel 2013 da oltre 50.000 servizi preventivi servizi che nei primi cinque mesi di quest'anno hanno già raggiunto un valore assoluto di 26.016 pattuglie questo sforzo espresso con una presenza vigile e attenta al territorio ha consentito di far registrare un'apprezzabile diminuzione dei furti consumati anche sul piano della repressione dei reati è significativo evidenziare un incremento delle rapine scoperte nonché la determinante azione di contrasto e tentativi di infiltrazione da parte di esponenti delinquenziali provenienti dalle legioni di Mitrofe caratterizzate da un ben diverso indice di delitosità e la cerimonia per celebrare il bicentenario della fondazione dell'arma si è tenuta anche a Isernia sentiamo Sergio Di Vincenzo una cerimonia semplice lo impone la crisi economica ma non per questo meno sentita per celebrare il bicentenario della fondazione dell'arma dei carabinieri i militari rappresentanti delle altre forze dell'ordine e delle istituzioni si sono dati appuntamento non in piazza ma al comando provinciale di Isernia per il tenente colonnello Davide Milano questa è stata anche l'occasione per tracciare il bilancio dell'ultimo anno di attività segnato da 60 arresti oltre mille denunce complessivamente si è registrato un lieve calo dei reati segnalati compresi furti e le rapine merito anche del rafforzamento dei controlli su tutto il territorio che in diverse occasioni hanno permesso di bloccare sul nascere i soliti ride negli appartamenti come testimoniano le denunce e sequestri di attrezzi da scasso a carico di persone provenienti dalle province di Caserta e Frosinone ma nell'ultimo anno spicca soprattutto l'arresto di tre giovani della zona ai quali sono stati attribuiti ben dieci furti ai serni e nei paesi vicini nove arresti e decine di denunce evidenziano anche l'impegno sul fronte dello spaccio di droga caratterizzato anche da maggiori controlli nelle scuole nelle settimane scorse invece hanno fatto parlare i sequestri dei terreni da parte del nucleo operativo ecologico a Sesto Campano e Venafro dove sono stati trovati rifiuti interrati sospetti ottimi anche risultati conseguiti dal nucleo ispettorato del lavoro per garantire maggiore sicurezza sui cantieri e per contrastare il lavoro nero le 80 denunce e danni dei responsabili delle varie imprese e le morti degli ultimi mesi dimostrano che c'è ancora molto da fare al termine della cerimonia sono stati consegnati riconoscimenti ai carabinieri che si sono distinti durante importanti operazioni di servizio a Isernia nell'area del terminal bus la delegazione provinciale del CONI ha organizzato la giornata nazionale dello sport i partecipanti sia piccoli sia grandi hanno potuto cimentarsi in diverse discipline sportive la manifestazione è stata organizzata per festeggiare i cento anni della fondazione del comitato olimpico nazionale è stata un'occasione hanno commentato i promotori dell'iniziativa per rivivere insieme la storia del CONI per rimarcare i valori dello sport e per scoprire quali sono le diverse discipline sportive praticate sul territorio prima giornata del corso di alta formazione alla fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso sulla cura e il trattamento dei tumori femminili presenti maggiori esperti a livello nazionale e internazionale il servizio di Anna Maria Di Matteo oncologi chirurghi e ginecologi provenienti da tutta Europa per partecipare al corso di alta formazione che è partito oggi alla fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso una a tre giorni nel corso della quale i maggiori esperti del settore si confronteranno sulle nuove cure le tecnologie e nuovi farmaci chemioterapici la prima giornata è riservata al carcinoma dell'ovaio con l'intervento in diretta proiettato nel corso del seminario oggi è una giornata monotenatica dedicata al cancro ovarico in particolare al cancro ovarico avanzato è il tumore femminile che uccide più donne e molto spesso non per l'aggressività del tumore ma per l'incapacità e la mancanza di organizzazione da parte degli operatori che non sono aggiornati che non hanno centri di riferimento e che non hanno il know-how tecnico e la squadra per poter affrontare questo tipo di malattia noi abbiamo raccolto qui nel centro oncologico della fondazione Giovanni Paolo II i migliori esperti nazionali e internazionali per una giornata monotematica di aspetto completamente pratico chirurgia in diretta dalle sale operatorie relazioni nel pomeriggio per cercare di insegnare ai colleghi come fare cosa fare quando fare la diagnosi è un grosso problema queste donne arrivano alla nostra osservazione molto spesso già con un tumore disseminato in addome questo è colpa di un ritardo della diagnosi e questo tipo di evenienza di fatto poi spiazza il ginecologo che non avendo spesso le competenze proprie del ginecologo oncologo considera di fatto la paziente già persa queste sono donne che possono guarire noi dobbiamo fare il massimo sforzo terapeutico e chirurgico per aiutare queste donne per salvare queste donne una delegazione di molisani residenti in australia è stata ricevuta in mattinata in consiglio regionale dal presidente vincenzo nero obiettivo della visita istituzionale a crescere il senso di appartenenza e rafforzare il legame tra le due comunità grande interesse partecipazione all'ottava edizione del planta tour la passeggiata alla scoperta delle piante officinali che si è svolta attraverso le aree incontaminate che costeggiano bagnoli del trigno la manifestazione è stata organizzata dall'associazione la chiave della salute dal centro studi Cosmo de Orazis per noi c'era Giuseppe Carriera il planta tour di bagnoli del trigno una passeggiata all'interno di un ecosistema naturale che appaga prima la vista poi l'olfatto con il profumo autentico della campagna a giugno infine la voglia di sapere di conoscere tante piante che spontaneamente povolano il nostro morise e che racchiudono come uno scrigno tante proprietà Sono piante per uso non solo medico perché comunque ad uso salutistico per la salute il loro uso infatti è anche in campo cosmetologico per esempio ma anche per uso culinario e non è che in ambito cosmetologico o per uso culinario si va al di fuori della salute sono piante che anche attraverso questo utilizzo fanno bene alla salute 5 chilometri e mezzo attraverso luoghi incantevoli con le spiegazioni di docenti e esperti delle materie legate alle piante officinali al loro ecosistema al loro utilizzo poi un pranzo nella domus area caratterizzato dall'uso di alcune di queste erbe infine una visita guidata agli stabilimenti biogroup e officine naturali una giornata densa di occasioni di scoperta che si inserisce in una filosofia di elevato spessore scientifico il dottor Franco Mastrodonato a margine della giornata ha anticipato i temi del congresso internazionale di medicina biointegrata in programma tra qualche mese il nostro prossimo congresso internazionale che si terrà a Roma in aprile infatti avrà un altro tema noi parliamo di medicina attitudinale ciascuno di noi ha una sua costituzione ciascuno di noi ha un suo metabolismo la sua flora batterica eccetera eccetera il suo carattere e compagnia bella bene alimentazione strettamente personalizzata più che alimentazione nutrizione è il termine più giusto la nutrizione può essere svolta in termini mirati ad una malattia una problematica può essere svolta in termini di drennaggio di un organo di un viscere di un apparato può essere svolta in termini di terreno e questa è la parola chiave terreno cosa significa? terreno significa costituzione terreno significa il nostro essere nella sua globalità quindi dal punto di vista biochimico psicologico e fisico bene ciascuno di noi ha la sua costituzione quindi ha le sue predisposizioni a ciascuno la sua nutrizione a ciascuno i suoi alimenti quelli che l'organismo predilige e tenere a bada quelli che l'organismo avversa e poi c'è da dire un'altra cosa e questo vale per gli alimenti ma vale per qualsiasi altra cosa non si mangia solo per vivere ma attenzione si vive anche per mangiare c'è la cultura del cibo e questa cultura va coltivata perché insieme alla cultura del cibo soprattutto se riusciamo a personalizzarla per noi stessi allora veramente realizziamo noi stessi parliamo adesso del terzo raduno pentro di auto e moto storiche organizzato a Isernia dalla Old Car Club l'associazione presiduta da Toni Corbucci che ha richiamato in città appassionati provenienti da tutta la regione ospiti d'onore della manifestazione i ragazzi della cooperativa lavoro anch'io di Isernia che tra l'altro hanno realizzato una targa ricordo che il club ha donato al sindaco della città Luigi Brasiello dopo il raduno in piazza della Repubblica i partecipanti hanno effettuato un giro turistico lungo le strade della provincia veniamo adesso alla manifestazione di fine anno delle scuole a Isernia la San Giovanni Bosco e la scuola dell'infanzia dell'immacolata Concezione hanno salutato l'anno scolastico con due simpatiche iniziative ce le racconta in questo servizio Enzo Di Gaetano una mostra con tutti i ricordi dei nonni e le testimonianze di come si viveva una volta così la San Giovanni Bosco ha voluto salutare l'anno scolastico che si sta chiudendo una delle tante iniziative in programma per la tredicesima edizione di scuola ed intorni che durerà fino al primo agosto abbiamo allestito una bellissima mostra grazie al contributo di tutti quanti i genitori ogni nonno ha voluto partecipare condividendo questo progetto portando un proprio ricordo un proprio oggetto e abbiamo allestito questa splendida mostra ed ora la testimonianza di uno dei nonni che ha messo in mostra i suoi ricordi e gli oggetti del tempo andato abbiamo portato parecchi ricordi delle nostre famiglie ricordi diciamo a cui siamo legati per affetto che diciamo configurano una realtà diversa una realtà diciamo più contadina in cui c'era più semplicità ecco che oggetti ha portato abbiamo portato dei pestasale abbiamo portato dei macinini manuali abbiamo portato delle fotografie antiche dei nostri dei nostri nonni quindi suoi bisnonni abbiamo portato anche altri articoli diciamo che avevamo in casa e che avevamo conservato accuratamente pur non avendo un valore diciamo venale e chiudiamo questo spazio riservato alle scuole con le immagini e i suoni di un'altra simpatica manifestazione di fine anno quella organizzata dalla scuola dell'infanzia delle suore dell'immacolata concezione di Isernia che hanno messo in scena lo spettacolo musicale aggiunge un posto a tavola con l'intervento speciale del sindaco di Isernia con l'intervento speciale con l'intervento speciale e su queste immagini termina il nostro telegiornale delle 14 dopo la sigla le previsioni meteo poi la linea ai colleghi dello sport noi ci rivediamo per gli aggiornamenti alle 15 buon pomeriggio grazie a tutti